ciao ciao stettine come state? io ovviamente spero che vada tutto 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 molto 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 bene benvenuti o ben ritrovati sul mio canale in un nuovo video che come avrete letto dal titolo sarà quello dedicato ai film e alle serie tv preferite del periodo qui con me ho un bel po' di acqua fredda perchè fa un caldo assurdo infatti spero con tutto il cuore di riuscire a portare avanti il canale per quest'estate ma la vedo molto dura e vabbè farò quel che posso e poi qui con me approfitto è troppo carina questa sorta di bicchiere a forma di cactus e poi qui con me sottofondo delle mie chiacchiere ci saranno questi trigger che mi piacciono tantissimo allora parto subito col dirvi che in questo periodo ho guardato tantissimi film e serie tv ma vi cederò solo quelli degni di nota e parto subito con i film i diciamo che mi preferite in assoluto sono state più che altro le serie tv che vi lascerò alla fine i film invece che ho preferito sono e quelli che ovviamente vi consiglio sono The Weeknd che lo trovate su Netflix ed è un film del 2022 quindi recentissimo scusatemi 2021 comunque recentissimo con protagonista l'attrice che sarebbe player di Gossip Girl ed è molto brava devo dire è il primo film che guardo con lei come attrice protagonista oltre a bella serie famosissima e devo dire che mi è piaciuto tanto perché è un film ricco di colpi di scena e tiene incollato lo spettatore non è scontato e è la storia di due migliori amiche che si incontrano la protagonista raggiunge l'amica in Croazia dove vive appunto e da lì insomma dopo una festa lei non ritrova più l'amica e succede di tutto quindi Blair non mi ricordo come si chiama nel film la chiamerò Blair farà di tutto per scoprire la verità prima di tornare a casa quindi ovviamente cerca l'amica e cerca di scoprire che cosa è successo molto molto bello poi passiamo a un altro film stupendo che si chiama dove la terra trema sarò sincera io non ricordo se ve l'ho già consigliato però nel dubbio mi fa di riparlarne perché è veramente cioè mi è piaciuto tantissimo una storia molto particolare e cosa che mi ha affascinato tantissimo sono l'atmosfera i paesaggi perché è ambientato in Giappone gli attori sono bravissimi e ve lo straconsiglio ha in pratica la storia di un interprete che arriva in Giappone quindi è lì da molti anni e la sua vita procede normalmente fin quando non viene accusata di omicidio e quindi diciamo una delle prime scene è l'interrogatorio che le fanno dove lei ammette di aver compiuto questo omicidio ma poi ci saranno diversi cioè praticamente sto per dire ci saranno diversi troppe in realtà racconta il precedente cioè che cosa è avvenuto prima di questo interrogatorio ed è molto molto interessante anche qui i colpi di scena e mi ha affascinato molto questo film devo dire l'ha fatto davvero bene ambientato a Tokyo però non nei nostri anni mi sa ecco ho tutto segnato come sempre qui davanti a me e ha ambientato negli anni 80 molto molto bello poi passiamo a un altro film che mi è stra piaciuto ed è acque profonde ti ho sentito molto parlare con di me incuriosita ma che avevo comunque in programma di vedere che ha come protagonista Ben Affleck che sappiamo insomma della sua bravura ma io sono completamente follemente innamorata della attrice protagonista che è una gran figa anche questo recentissimo del 2022 ed è un thriller psicologico quello precedente quello precedente invece ho dimenticato di dirvi che è un thriller drammatico e questo qui l'ho visto su Prime e come vi stavo dicendo l'attrice è pazzesca bravissima bellissima questa è una storia ispirata a un romanzo è una storia molto intrigante a non vi spoilerò nulla l'unica cosa che vi dico e che sono rimasta delusa dal finale mi sono un po' insospettita infatti sono andata a cercare su internet e ho letto che il finale è così frettoloso e si nota insomma che manca qualcosa semplicemente perché hanno voluto omettere il vero finale perché è troppo violento non sono d'accordo sinceramente perché è ispirato al romanzo tieni fede a questo romanzo anche perché ho visto dei film veramente molto crudi con tantissime scene di violenza che sono all'ordine del giorno in film o serie tv non vedo perché questo filmone deve essere rovinato così cioè ha un finale però non lo so può essere più completo ecco però molto molto bello allora ci vale la pena guardarlo già solo per l'interpretazione dei protagonisti poi 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 giro il foglio passiamo a wonderful lo trovate su netflix del 2022 e praticamente è il film il classico film in cui si introduce un ladro in casa ecco però ha un risvolto molto particolare all'inizio sembrava il solito film come vi dicevo del genere ma è un po' più particolare ovviamente questa persona che si introduce poi mi piace questo genere in cursione mi piace questo genere qui che insomma si introducono nelle case ladri eccetera e nulla praticamente questa persona si introduce a casa di questa di questi due comici molto molto ricchi e nulla non pensava di ritrovarseli lì e da qui insomma succedono varie cose con un finale davvero inaspettato se siete amati del genere ve lo consiglio ma un film stelline mie che mi ha fatta mi ha fatta impazzire e si chiama Anna è un gran bel film l'attrice è assolutamente non trovo termini è boh un talento tra l'altro è una modella lei in tutto ciò mi sembra che è il primo film che ha girato pensate che alcune scene ho detto no vabbè non le ha girate davvero avrei avuto una controfigura oppure è fatto a computer no cioè la scena che più mi ha lasciata appasita ho scoperto che ha fatto davvero tutto lei mi sembra senza neanche pochi minuti di controfigura e tra l'altro questa attrice mentre la girava questa scena stava anche molto male quindi io non lo so che come abbia fatto ma è pazzesca non vi voglio dire nulla di questo film ma vi dico solo che la protagonista è una delle assassine più temute del pianeta che viene ingaggiata dai russi e stupendo non ve ne pentirete molto molto bello se guardate questi film fatemi sapere poi nei commenti quali se vi sono piaciuti poi passiamo passiamo alle serie tv che sono un bel po' vado in ordine allora la prima che ho visto è The Sinner tanto tempo fa vi ho già parlato di questa serie che avevo visto la prima stagione poi la seconda e poco tempo fa anche la terza non le ho viste a distanza rappicinata semplicemente perché le storie sono scollegate tra loro non hanno un filo conduttore se non il protagonista che insomma si riprende un po' la sua vita ad ogni stagione ma ha a che fare con criminali sempre diversi con storie diverse quindi è molto bella anche questa stagione devo dire perché molte serie nel corso del tempo un po' si perdono questa no mi è piaciuta in qual modo e anche questo è un thriller sono è una stagione con otto episodi e quindi è la storia di un detective quasi in pensione che ha a che fare con dei casi complessi come anche appunto anche nella terza stagione molto molto bella io ve le consiglio cioè di guardarle tutte e tre le stagioni perché è una serie davvero fatta bene e anche qui la bravura del protagonista è eccezionale mi sto tirando tutti i capelli poi passiamo a una serie un po' più particolare che non mi aspettavo avesse questi elementi questo è il genere horror però degli elementi fantastici sapete che io non sono un'amante del fantasy ma non lo sappia non l'avevo letto bene quindi vabbè poi ho proseguito la visione e perché un po' mi ha incuriosita volevo sapere come andasse a finire premessa non la consiglio che è facilmente impressionabile perché alcune scene sono un po' disgustose diciamo così a me non mi davano fastidio però posso capire se possano insomma turbare qualcuno è è la storia di un'aspirante regista che si rega a Hollywood e ha ben ben presto a che fare con diciamo persone che la vogliono sfruttare con la magia e insomma con vari stragi intorno a lei comunque è particolare è particolare e si chiama al nuovo gusto di ciliegia e lo trovate su netflix e ve lo consiglio non lo so vi ripeto è per passatempo va bene e soprattutto se non siete amati delle cose troppo fantasiose delle cose proprio inverosimili o che hanno a che fare con la magia e se ci sono cose che vi possono turbare a livello proprio visivo evitate poi una serie che mi è piaciuta molto è clickbait la trovate su netflix 2021 genere drammatico thriller allora è la storia di nick che è uno stimato fisioterapista che all'improvviso scompare e c'è in giro questo suo video in cui annuncia la sua morte con anche una scadenza quindi le persone vicino a lui quindi la sua famiglia eccetera fanno di tutto per insieme ovviamente alla polizia non molto collaborativa fanno di tutto per la famiglia fa di tutto per cercare l'abilità e soprattutto ritrovarlo in tempo è molto carino ben fatto anche qui ci sono vari colpi di scena e io amo quando la serie scorrevole mano scontata consigliato poi passiamo a maid questo l'avevo iniziato poi tralasciato e poi ho detto no vabbè alla fine mi ha lasciato un po' di curiosità quindi lo riprendo ed è raro che io dopo che stoppo una serie poi lo riprendo questo ho detto no fammi arrivare fino in fondo e ho fatto bene anche questa 2021 genere drammatico è la storia di questa ragazza che ha una figlia un compagno un po' violento quindi lei decide per tutelare la figlia se stessa di lasciarlo e scappare da casa loro hanno molti problemi economici infatti lei per mantenersi diciamo subito cerca lavoro come donna delle pulizie ed è bello vedere un po' tutte queste avventure che lei deve questi ostacoli che deve affrontare per mettere per tutelare sua figlia e per cercare di dargli un futuro migliore e tra l'altro tra l'altro e poi a che fare anche con una madre un po' problematica che mi sono scritta il nome perchè non l'avrei mai ricordato aspettate Andy Mcdonald con quattrice famosissima lei è il volto di L'Oreal quindi chi non la conosce magari vi metto l'immagine da qualche parte è bravissima superlativa in questo ruolo è una madre un po' particolare un po' fuori di testa e molto bella questa serie devo dire non è un genere thriller thriller psicologico che io amo tanto ma ti lascio guardare e è una bella storia fa anche commuvere poi 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 passiamo a e un'altra serie che si chiama la donna nella casa di fronte alla ragazza della finestra questo anche recentissimo è uscito quest'anno su Netflix e ha una sola stagione la protagonista è una donna che passa tutta la sua giornata non abbastanza giovane che passa tutta la sua giornata faccia dalla finestra ad osservare la vita degli altri in particolare moto del vicino di cui si prende anche una cotta fin quando non avete una scena magabra che lo coinvolge da lì cambiano un bel po' di cose qui c'è un colpo di scena verso la fine assurdo vi consiglio di vederla è molto carina ho visto altre più o meno di questo genere ma il finale è stato davvero inaspettato mi ha ricordato un po' non vi posso dire il film se no se no mi mi scamo e vi spoiler cose mi ha ricordato un film che vede il cinema la storia non era simile ma il colpo di scena assurdo si comunque poi un'altra un'altra serie si intitola Pisces of Her e anche questo recentissimo 2022 genere thriller una stagione e allora qui c'è la bravissima Toni Collette che cioè io amo tutte le serie in cui lei è protagonista è una garanzia in questa serie lei nasconde molti segreti della sua vita alla figlia quasi trentenne che è poliziotta se non erro fin quando non avviene un non avviene un violento attacco in un locale del loro paese e da qui succedono un bel po' di cose è una serie molto molto carina consigliata ma dove Toni Collette è stata veramente superlativa io già vi consiglio una serie con lei di cui non ricordo il nome però basta che scrivete Toni Collette su Netflix e vi escono tutte le serie con lei protagonista guardatele tutte comunque la serie che ho visto recentemente che mi ha proprio piaciuta da impazzire tra l'altro ispirata a una storia vera si chiama Unbelievable credo comunque 2019 thriller drammatico una stagione e come vi ho detto ispirata ha fatti realmente accaduti è la storia di un adolescente che ha subito delle denunce delle violenze sessuali e poi insomma ritratta poi ritira quello che dice poi dopo lo riconferma insomma succedono varie cose e parallelamente c'è la storia anche di Toni Collette che è una detective che lavora in un'altra parte dell'America con un'altra investigatrice ma anche lei è bravissima questa attrice che lavorano allo stesso caso di quello di questa ragazza senza saperlo in pratica comunque vabbè spiegato così non capite molto ma è veramente bellissimo e le attrici sono tutte molto molto brave devo dire fa anche riflettere poi passiamo a una serie che è anche visto molto pubblicizzata su Netflix e si chiama Anatomia di uno scandalo Anatomia di uno scandalo 2022 è uscito ora praticamente su Netflix thriller psicologico è la storia di un ministro inglese parlamentare inglese James Whitehouse che è un uomo felicemente sposato molto ricco e che ha una vita molto aggiatta molto bella finquanto non viene scoperto un segreto scandaloso e da qui escono fuori escono fuori altre cose e diciamo le gente di questa serie si ambientano maggiormente in un tribunale dove c'è un avvocato molto l'attrice che interpreta l'avvocato che lo accusa è veramente molto molto brava è molto acquerita e poi capire del perché è veramente molto carino l'unica cosa è che il finale è un po' troppo freddoloso però una bella serie anche questa fa riflettere perché ci sono tematiche tipo violenze quindi fa riflettere un po' il tema sul tema del consenso e ve la consiglio poi passiamo a un'altra serie che si chiama fidati di me sempre 2022 e mi sembra non ricordo se prime o netflix sinceramente ve lo scriverò da qualche parte come al solito e la serie intreccia diverse vite intreccia diverse vite di alcune delle famiglie di Varsapia e in pratica la storia parte con l'uccisione dell'omicidio di un ragazzo quindi alcune delle famiglie si movimentano molto per cercare di scoprire la verità insieme alla polizia e però insomma vedrete un po' il tutto vedrete un po' con il vedrete un po' tutti i segreti che vengono fuori ci sono tante cose non dette e insomma succedono diverse cose molto carina molto carina ma ora per ultimo vi ho lasciato una serie che mi è piaciuta tantissimo tantissimo che ho visto con il mio fidanzato che trovate su Prime e si chiama Bridger Bridger perché se non erro è una storia che anche del film con protagonista Tom Cruise quindi vari film ci sono con la storia di questo soldato Jack Bridger ma questa serie mi è piaciuta troppo è tratta da un romanzo e il protagonista è un ex soldato che durante il suo soggiorno a Margrave viene accusato di un omicidio quindi viene fermato interrogato e da qui mentre e da qui si susseguiranno tanti eventi particolari dove si scoprono tante cose ok ho appena sicuramente taglierò questo pezzo perché vi ho spoilerato troppo difficile parlare delle cose senza spoilerare come posso fare per dirvi senza dirvi allora questo ex soldato quando arriva a Margrave dicevo viene accusato di un omicidio quindi trattenuto interrogato lui all'inizio non parla poi dopo dalla sua versione di innocenza e da qui insomma succederanno varie cose e si capirà se è innocente o meno se è coinvolto quando è coinvolto e che cosa anche succede tutto intorno perché da questa cosa partirà una serie di eventi e una serie di scoperte che cambieranno per sempre la città ecco diciamo così è veramente bellissimo piena di azione c'è anche una storia molto carina e è thriller molto molto bello è super consigliato poi vabbè mi sono affizionata proprio all'attore e vi dico mi è piaciuto così tanto che lo rivedrei e ecco questi sono le mie serie i miei film preferiti come vi dicevo ho visto tanto altro però prima di tutto il video sarebbe venuto di 50 minuti e con questo caldo ragazzi vi assicuro che è difficile perché poi mi dicono perché non può accendere il ventilatore ho l'aria condizionata no perché si sentirebbe vi darebbe fastidio quindi sto tutta chiusa qui nella stanza e vi ripeto io spero davvero di riuscire a fare altri video ma non vi prometto nulla insomma anche se mi dispiace ma non so come fare quindi speriamo che il caldo dia un po' di tregua anche se ho visto un po' l'andazzo meteorologico del prossimo periodo ed è un inferno per me che ho del caldo sarà proprio insomma non piacevole e nulla stelline ah e poi vi ho parlato di ciò che ho preferito perché diciamo questa è la sezione estesa dei preferiti del periodo come sapete siccome vedo parecchi film e serie ve ne parlo direttamente in un video a parte e quindi vi dico quelli che mi sono piaciuti di più io spero tanto che ah insomma questi consigli ah possano essere utili per vedere qualcosa di carino ah ora che magari sia un po' più di tempo libero davvero troppo carino e nulla spero di vederci molto presto grazie mille per aver guardato questo video ed essere arrivati fin qui e vi auguro una dolcissima 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 buonanotte fatemi sapere se vi va quali film avete visto tra quelli citati o se non li avete visti quali mi curiosiscono un bacione esterline mie buonanotte 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 buonanotte